Il nome fu un'altra di quelle storie su cui si dovette questionare. All Sensation Band fu il primo, lo proposi io. Guarda che l'inglese non vuol dire una sega, disse Cuspaton. Vagliolo a dire a tua mamma. Buona la tua. La prossima volta che la vedo faccio scattare il fluido erotico. La mozione di Cuspaton fu rigettata. Appena prima che lo aiutassimo a rigettare nel fosso che fiancheggia tutt'oggi l'osteria il litro e mezzo che da solo sarebbe avuto. Non lasciatemi, belava come un agnellino tra un cuonato e l'altro, tra una risata nostra e l'altra. Il preda propose cazzi di cossiga, con l'accento sulla O. Il bigio, con i suoi baffi lunghi al mento e una notevole resistenza alcolica, disse che secondo lui R.S.W. era il nome giusto. Cosa vuol dire? Disse Cuspaton, ridendo a occhio smorzo, con l'alito che sapeva d'acido. Cazzo è il tuo codice fiscale? Sono le iniziali di Radio Sherwood. Li ho sentiti a Padova. È gente che ha del manico. Mica noi, quattro sfigati con la chitarra. Decidiamo per Four Season Blues. Tanto sicuri di noi, quanto dubbiosi sul nome. In un passo del tuo libro, citi noi, citi Radio Sherwood. Come mai ti siamo venuti in mente? Mi siete venuti in mente perché siete dei grandi. Non lo dico per piageria, ma anche perché essenzialmente questa intervista viene dopo che la radio è stata citata. Si parla in particolare di Radio Sherwood e non prima. Venivate citati voi e veniva citata anche Radio Alice, che erano le due esperienze più importanti in Italia per quanto riguarda le radio. Io mi sono laureato sulle radio locali su internet e quindi ho dovuto fare un percorso approfondito di studio in merito anche alla genesi della radio in Italia e alla genesi della radio privata, politica, locale, pirata in Italia. Da lì a cadere su Radio Sherwood è stato, diciamo così, pressoché spontaneo e piacevolissimo. Grazie a tutti.